Allora facciamo un po' di chiarezza sul discorso indiretto Il discorso indiretto è quando parliamo di un qualcosa in modo un po' ok Un po' così ok Quando abbiamo un discorso diretto è molto diretta la cosa Quindi I'm feeling a bit tired Io mi sento un po' stanco Ok se invece vogliamo parlare di qualcuno che l'ha detto diciamo per esempio She said she was feeling a bit tired Ok cambiamo a volte il passato mettiamo presente al passato I want to be a teacher He told me he wanted to be a teacher Ok perché deve accordarsi con il primo verbo He told he wanted I've never been to the UK Diretto indiretto diventa he told us he'd never been to the UK Ok ok I'll email you later Diventa she said she'd email me later Ok vedete che va in concorda Quando si vuole sottolineare il fatto che qualcosa è ancora vero, rilevante e importante Però si usa solo Si può stare presente di say or tell Quindi non si dice he told he said Si dice esempio I'm having a party He says she's having a party Dice che farà una festa He lives in Paris Lorna tells me you live in Paris I'll be late She says she'll be late Ok Si usa l'infinito per riferire un imperativo che viene introdotto a tell, non say Quindi stop, he told us to stop Don't be late He told us not to be late Ok quando c'è l'imperativo mettiamo il tu Le domande È possibile riferire le domande usando verbi come ask, want to know e wonder Esempio He asked me what time it was Mi ha chiesto che ore erano I asked how much it cost Le ho chiesto quanto costava Darina wants to know if there's a cafe near here Darina vuole sapere se c'è un bar qui vicino Ok L'ordine delle parole è diverso da quello delle domande dirette Il soggetto va prima del verbo e non si usa il verbo usurare do Ok dirette do Qui no Esempio Did you see Harry Diventa She wanted to know if he'd seen Harry If I had seen Harry Ok Ok deve concordarsi con wanted Per cambiare i tempi verbali nel caso di domanda a discorso indiretto Valgono le stesse regole per il discorso indiretto Entrata da say or tell Quindi se è il passato diventa il passato Ok I deve rinchieste ed imperativi Can you help me diventa To help him Steve's asked me To help him Please don't be late He asked us not to be late Ok Altri verbi che includono il discorso indiretto sono promised Promise Invite E deny Ok Che vogliono dire promettere Invitare Invitare Vietare Sostanzialmente O dire di no Sostanzialmente Ok Quindi se avete delle domande su questi argomenti Fatemele qui sotto Noi ci vediamo al prossimo video E alla prossima lezione Ciao Ah mi raccomando Mi piace Iscrizioni Tutte quelle cose lì Che tanto Ciao 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 Grazie a tutti.